Con il via libera alla riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle inviate dal fisco e al saldo e straccio, con nuova scadenza fissata al 31 luglio prossimo, sono sempre più numerosi comuni che si sono dotati del regolamento che consente di aderire alla definizione agevolata dei tributi comunali. Per comprendere meglio cosa fare per aderire e quali le scadenze da rispettare, abbiamo ascoltato il parere del dottore commercialista Luca Del Federico. Il contribuente cosa può e deve fare per poter aderire? Il contribuente del Comune di Pescara, visto che siamo qui a Pescara, deve immediatamente o nei prossimi giorni verificare sul sito del Comune di Pescara e in particolare nell'area o amministrazione trasparente oppure nell'area tributi, se il Comune di Pescara ha adottato delibera per l'adozione del regolamento specifico e in tal caso scaricarsi il regolamento e quindi presentare un'istanza che dovrebbe essere normalmente per tutti i Comuni da predisporre e presentare entro il prossimo ottobre. Il provvedimento, noto anche come Rottamazione Ter, consente ai contribuenti, come è noto, di pagare le sole somme relative alle imposte dovute e agli interessi, escludendo le sanzioni con la possibilità di dilazionare il pagamento. L'opportunità è interessante perché oltre a definire il carico tributario senza sanzioni c'è la possibilità di corrispondere in una o più rate gli importi dovuti e quindi chiaramente il tributo viene dilazionato fino normalmente a due anni massimi, mi sembra, poi a seconda anche del regolamento comunale e quindi capiamo che se devo pagare oggi 100 euro più le sanzioni, non pagherò le sanzioni e l'importo di 100 euro potrà essere pagato nell'arco temporale ben più ampio di due anni. Grazie a questo provvedimento è stato detto infine che le amministrazioni comunali avranno la possibilità di incassare almeno una parte delle entrate non riscosse nonostante la notifica dell'ingiunzione fiscale.